Il governo della regione siciliana finalmente prende in mano la situazione di AICA. Così Fabio Termini all'indomani del vertice di ieri tra i sindaci e l'assessore Roberto Di Mauro. Evidentemente il primo cittadino s'accenso è soddisfatto. Il tema è quello ormai noto e riguarda le ripetute rimostranze degli amministratori dei comuni in regola con gli impegni finanziari nei confronti dell'azienda consortile, così come lo è il comune di Sciacca, a differenza di altri comuni, Palma di Montechiaro e Licata su tutti. L'incontro di ieri, aggiunge Termini, è stato voluto dall'assessore Di Mauro che ha impegnato il governo a farsi carico di una questione che deve essere risolta al più presto e definitivamente. All'interno di AICA ci sono comuni come quello di Sciacca che hanno versato la propria parte del prestito iniziale da 10 milioni di euro concesso dalla regione siciliana per far partire con la liquidità necessaria il nuovo gestore pubblico del sistema idrico integrato, mentre continuano ad esserci comuni che risultano ingiustificatamente ancora inadempienti, non avendo attivato le procedure per la restituzione della propria parte di prestito, creando un danno enorme alla società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. L'obiettivo definito comune, anche se fino ad oggi non risulta del tutto condiviso nel concreto, è quello di garantire l'efficienza del servizio puntando sulla riduzione dei costi, ma per Di Mauro la necessità di AICA di incassare queste risorse è importante perché consentirebbe all'azienda a sua volta di far fronte ad una serie di rapporti contrattuali tra quali quelli con Siciliacqua ed Enel. L'impegno assunto dall'assessore è stato quello di prevedere un ristoro in ordine al costo energetico nella gestione del servizio idrico integrato, ma anche quello di agevolare un'attività di ricerca di nuove risorse idriche. Il governo è disponibile, ma i sindaci onorino gli impegni assunti quando hanno voluto la società in house a quel comportamento, ha concluso Roberto Di Mauro, deve far seguito a una serie di attività per mettere in salvaguardia AICA. Un incontro che Alfonso Provvidenza, presidente dell'Assemblea dei Sindaci di AICA ha definito proficuo, aggiungendo come questa sia stata un'occasione per approfondire i diversi temi che riguardano il servizio idrico e soprattutto le criticità presenti sul nostro territorio. Nel corso del Vertice si è parlato anche di investimenti e di necessità di reperire nuovi finanziamenti per ridurre le perdite idriche. Durante il Vertice non sono mancati riferimenti alla crisi finanziaria di AICA e le sue perdite milionarie. Si parte dal bilancio per approdare ad una stagione di assoluta tranquillità, ha detto Settimio Cantone, presidente del Consiglio di Amministrazione di AICA. Gli argomenti trattati hanno spinto l'assessore e sindaci a calendarizzare questi incontri perché le problematiche di AICA sono comuni a tutta la provincia e una concreta risoluzione di questi temi sicuramente porterà l'azienda a navigare in condizioni di maggiore tranquillità.